musica 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 ciao ragazzi questo nuovo video questo è il sassecate 4 black flag allora questa mattina ho attraversato il ponte dei cannoni aspettate eh un mucchio di calcatoi pronti a bruciare e c'era una miccia ancora accesa e non lontano due barili di polvere da sparo vicini come innamorati pronti a scoppiare alla prima scintilla sistemeremo tutto bene invece i cannoni sono conciati da buttare le bocche sono struite fino in fondo l'esterno è corroso i scovoli non hanno più peli il cordame è così sottile che potremmo tesserlo sul telaio per farla breve ci serve un equipaggiamento in buone condizioni non possiamo certo vincere con le gride e gli schermi occupati pure del tuo armamento se credi ma cerca di non dimenticare la gente praticamente abbiamo raccolto la nave di merda dovremmo tenere interanare la sua in piena efficienza allora si siamo attaccati col botto vabbè però anche tu mio caro adeguale che prendi stan barca di merda senza niente con cannoni di merda tutto di merda vabbè comunque vi saluto saluto a tutti i ragazzi di questo video questo video dopo aver sentito quella roba lì nella nascena eccetera oggi continuiamo ci dobbiamo fare l'armatura quindi l'iguala eccola una già l'ho trovata e quindi è già buono qui c'è un granchio bello il granchietto ehm niente adesso continuiamo a cercare una teguala perfetto non ha gradato gli ocellotti adesso perfetto andiamo a cercare gli ocellotti ocellotti oh qui c'è un muschino vado vai l'ho sentito eccolo mi sembrava di averlo visto se non sbaglio posso stare i miei salve non erano i miei occhi si non mi interessano i trucchi mi dispiace per i siocellotti eh questo qua l'ho ammazzato mi piace anche per le guane mi dispiace per tutti gli animali vieni qua mi devo ammazzare per forza però anche non per forza perché più avanti nel gioco se non vogliamo andare a cacciare possiamo comprare le pellicce nei negozi vabbè per il momento però è obbligatorio niente ci siamo presi la rubetta adesso ci potenziamo no sbagliato ok allora no non è qua è fabbricazione ok fondina questa qua ok perfetto allora poi dopo dovremmo prendere due pelli di megattela per la 3 e coccotillo per la 4 prendiamo il prezziamento salute mh mh pare di cervo per il salute 2 quello là ci serve dobbiamo concettare con la megattela e cervo adesso andiamo alla jack tool dovremmo ecco vabbè che vabbè vabbè che vabbè 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 Eh, ok, siamo ritornati sull'check 2 Ok, siamo ritornati sull'check 2 Adesso vogliamo quella di uguale È di uguale Sì Tiè Allora, siamo pronti? O dobbiamo aspettare ancora? È meglio salpare Per me la ciurma brama di tornare alla civiltà Non c'è civiltà a Nassau Ma è un posto come un altro per starsene meglio Eh, ok Spara... Ah, beh, le misi secondarie non l'ho fatto Perché non mandava, sinceramente Non mandava da fare ste cose Vabbè E ora Visto l'avevo ultimi 6 Non so L'ho fatto già all'incontro con il governatore Quindi adesso Dobbiamo andare Penso a Nassau Sì, infatti è Nassau Quindi niente, ci vediamo appena arriviamo Bapini, aspetta un po' C'è uno skin che l'ho buttato lì così Non è che forse è quello là Da contenuto scaricabile Che mi ha detto il gioco Vai lì Quasi quasi ci vado Tanto non è neanche tanto lontano Vai ci vado Quanto è lontano Non ci vado più Va bene Ci vediamo Appena raggiungiamo Nassau Un po' di casseggio ci sta sempre però Dai Facciamo un arrembaggio Dai Mentre andiamo a Nassau Facciamo c'è sto bel Abbordaggio Doppia Teniamo quello Prendi quello Ok Già vinto Buono Mi sa che ho bisogno di riparare azioni per Jack Do Io la riparo Anche perché è l'unica cosa che posso fare Vabbè no Un'altra no No Dai Andiamo a prendere Sa bella cassa E ci vediamo a Nassau Ok Legati e controvelaci Calate le vele Ciurma Alle drizze Prendiamo il vento Facciamo la corrente E ci vediamo Eeeh vabbè Ragazzi Siamo arrivati a Nassau Nassau Bahamas Va bene Andiamo va Nassau Allora Qui c'è Un bellissimo armaiolo Allora Le spade non ne ho bisogno Ne voglio tanto vedere No Pistole Vediamo un po' le pistole Voglio queste io Allora Prendiamo il rum Che cerchiamo qualche soldarello Poco però Acquistiamo Abbiamo detto che ci servivano Due di cervo Come vedete Vedete Mi rompo la pelle così E poi dopo ci serviva Quella di Megat No Sì Megat Però adesso Non la posso comprare Costa troppo Quindi adesso Vedete già come l'aveva detto Non tengo più Del coso del pad Faccio direttamente così I soldi Gli usiamo Per comprarci Già Il potenziamento Due Ho sempre fatto così Mi piace avere Molta più vita Anche se Non mi colpiscono Quasi mai Trovo Che ne sa C'è stato qualche Storzo col fucile Ci vediamo laggiù Allora ragazzi Eccoci qui Siamo arrivati Nel frattempo Ho fatto anche Tutta la sincronizzazione E facciamo una missione Personale Cercansi Lo giuro Dead touch Ben Hornigold James Kidd Vai portare una pistola Calma Ademi a salvare Stiamo cercando una ciurma Per salpare con la mia nave Sai ci sono tanti bravi marinai Qui Ma stai attento Una nave piena di uomini Del re appena arrivata Causano guai E la fanno da padroni Mi vado ad ammazzare Se volete Vedrò chi posso trovare Ok Sì Una ciurma della jack Dove ci abbiamo bisogno Della ciurma Sì 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 Andiamo a salvarli Di salma E uccide Guardia Va bene Mi devo mettere Con i punti Dai Sembro uno Corrozzo Ma non sono Un ubriacone Lungiù Se non mi attacchino Però non le faccio Diciamo Capitano Jack ti ringrazia Ehi anch'io Mi chiamo Jack Quindi siamo in due Amici Volete le botte Io ve le do le botte No ho capito L'ho fatto ammazzarsi Qui stavano sotto protezione Da questo Sì Sì Aspettate Dai Riattacca Dai Va Attacchi tu Dai Non devi attaccare tu Ok ora puoi Ah Dopo sto segno Dai Sì ma il gioco Ovviamente non dice Di salma E uccidi le guardie Mi ho dato di salma Le guardie Ah no no Lo dice Dai Olle E mi ho fatto pure La cosa secondaria Perfetto Sì ma Sì ma Sì ma